La pandemia ha detto che nulla sarebbe stato più come prima, invece ci troviamo peggio di prima. E questo è il grande paradosso. Una situazione in cui proprio la mancanza di strutture, di servizi sul territorio ha determinato condizioni peggiori per quanto riguarda la pandemia. Pagare le conseguenze sono stati maggiormente gli anziani, che sono quelli che hanno più bisogno di cure, di assistenza. In Puglia il 10% delle persone rinuncia a cure necessarie a causa dei tempi di attesa troppo lunghi oppure perché non può permettersi l'accesso a pagamento ai servizi. 378 mila famiglie in Italia si impoveriscono per affrontare spese sanitarie irrinunciabili. E la CGL Puglia, insieme al sindacato pensionati nel corso di una conferenza stampa, a denunciare il rischio di un collasso del sistema sanitario nazionale e regionale. Al centro dell'incontro le iniziative che saranno messe in campo a difesa della sanità pubblica a fronte del rischio default paventato dalle regioni stesse per migliorare i servizi di cure e assistenza in Puglia e per ricordare i tanti deceduti a causa della pandemia con gli anziani i più colpiti ai quali sarà dedicata un'iniziativa pubblica il prossimo 31 marzo, giorno in cui nel 2020 i comuni decisero di istituire una giornata di lutto nazionale per le vittime del Covid. La sanità è a rischio collasso nel paese. C'è un buco di 5 miliardi di euro che è relativo all'aumento del costo dell'energia e alle spese Covid, ovviamente il governo non investe nel Fondo Sanitario Nazionale questa condizione ovviamente ha mandato in tilt tutto il sistema sanitario nazionale in Puglia la situazione è ovviamente altrettanto allarmante ci sono 4 milioni di prestazioni che devono essere fornite ancora in lista d'attesa c'è il 10% dei cittadini pugliesi che non rinunciano alle cure c'è necessità di intervenire, la regione ha messo a disposizione 30 milioni di euro che si applichino subito in iniziative per provare a dare risposte soprattutto alle fasce più deboli oggi qui ragioniamo, il grido d'allarme è forte, arriva dagli anziani, dallo SPI, dalla CGL e dallo SPI perché c'è una fascia di popolazione, quella più debole, che ovviamente soffre maggiormente questa condizione di disagio c'è bisogno di intervenire sul Fondo Sanitario, c'è bisogno di mettere nuove risorse dal comuniato disposto tra autonomia differenziata e mancanti investimenti sul Fondo Sanitario Nazionale soprattutto nel mezzogiorno farà pagare il prezzo più alto rispetto a questa condizione dove a parità di condizioni Emilia Romagna e Puglia il personale ovviamente, gli investimenti sul personale sono più scarsi l'intervento rispetto alla sanitaria è più scarsa ci sono costi elevatissimi sulla mancata efficienza del sistema sanitario pugliese che significa milioni di euro in mobilità passiva su questo bisogna intervenire e chiediamo alla regione di convocarci immediatamente di sottoscrivere il protocollo sul quale siamo impegnati per poter aprire una discussione in regione utilizzare quei 30 milioni di euro attivare il percorso sulla legge sull'invecchiamento astivo e investirci delle risorse ma soprattutto ragionare sulla sanità territoriale siccome attrezziamo meglio la nostra regione Grazie 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 Grazie